Ciao a tutti, mi chiamo Luca Dario Calcante e sono uno studente dell'Accademia di Danza del Bolshoi di Mosca. La nostra giornata base è molto difficile ed è piena di lezioni di danza ed è molto difficile a livello fisico. E molto spesso, molto spesso mi mancavano le energie per ballare e questo è un bel problema perché non solo per i ballerini ma per qualsiasi sportivo, atleta, chi sia, l'energia è un fattore inevitabile. In questo, nella ripresa delle energie, mi aiutano tantissimo le compresse NADH Energy della Abecon, aiutano tantissimo nella ripresa delle energie. Io le utilizzo ormai da più di un anno e devo dirvi che le mie prestazioni sono cambiate tantissimo perché questa è energia ed è la cosa più importante per qualsiasi sportivo. NADH Energy dalla Abecon.